A scuola per presentare nuovi progetti. Siamo nella sede centrale ormai dell'Istituto Cristoforo Mennella, Preside di Guida. Di che cosa parliamo stamattina? Di un progetto assolutamente nuovo, un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito delle azioni Erasmus+, volto all'integrazione tra sistemi formativi formali e non formali con il mondo della scuola, dell'associazionismo, nonché dei soggetti culturali ed economici del territorio europeo. E' un progetto in particolare questo, che parte oggi al Mennella, che vuole tentare di offrire agli studenti in difficoltà una nuova figura professionale di supporto, di accompagnamento e processi di apprendimento, ovvero la figura del mentor. Siamo in rete grazie a questo progetto con altre scuole d'Europa, con altre associazioni ed è un momento di grande sensibilità della scuola verso questi bisogni formativi che noi confermiamo anche con questo nuovo progetto. E diciamo qualcosa in più di questo progetto, no? E' un progetto europeo finanziato dalla Commissione Europea, il progetto si chiama WM Pro, che è l'acronimo di Validation Mentoring Project, è in rete con sei organizzazioni internazionali, due italiane, sul territorio napoletano c'è Mosaico, che è partner di progetto e ha messo insieme delle realtà locali, tra Ischia con l'Istituto Mennella, l'associazione ONG EAS Lab Partner di Save the Children, e una scuola Carlo Alberto dalla Chiesa di Afragola, che lavorano proprio con territori diciamo un po' svantaggiati. Il coordinatore italiano del progetto è la Scuola Italiana di Mentoring di Firenze e oggi stiamo iniziando la formazione per iniziare la sperimentazione dei materiali che sono stati prodotti in questo primo anno di progetto, perché è un progetto di due anni, e in Europa inizierà la sperimentazione in Belgio, Italia in contemporanea, Serbia, Bulgaria e Turchia. Diciamo qualcosa in più allora di questo mentoring, questo sconosciuto, di cosa parliamo? Allora parliamo di una modalità di accompagnamento in cui si affiancano un mentor, che è una persona con più esperienza, e un mentì, che è una persona che ha meno esperienza su qualcosa. Fanno un percorso insieme, incontrandosi, scambiandosi idee, cercando di confrontarsi e cercando di crescere. In realtà crescono tutte e due, perché sicuramente il giovane trae dall'esperienza del più anziano degli elementi per arricchire il proprio bagaglio, il proprio percorso, ma anche il più anziano ritrova, erogando la sua esperienza a qualcuno, sicuramente un motivo per ripensarla in maniera positiva.